Cazzo! Faccio un check di Rock Era lì e poi è andato sotto Uno, due, tre! Eeeh salve a tutti ragazzi! Io sono Adalbi Io sono Ray Io sono Rock e controllo l'audio Controlla l'audio Ray non sa farlo prima Ma schiaccia si Noi iniziamo con voi e iniziamo a giocare a Pandemoniums Di nuovo Continuiamo l'avventura L'avventura di Pandemonium Oddio Oddio A parte dei miei potere Aaaah Come vedete siamo su Playstation 3 adesso Ora che abbiamo scoperto che possiamo usare Come fanno vederlo? Perché non balla il cazzo di video Non balla il video si vede meglio Perché Locke balla anche i video E' colpa mia, è colpa di... Ho anche provato a sistemare l'allora E' spavito il video Puoi schiacciarli, non puoi schiacciarli quelli Il volume è leggermente alto Aspetta che è vero AA AA il doppio salto e la timing Ricordiamolo Dov'è il telecomando? E' bello che noi iniziamo ad iniziare il video Come così Non è che siamo pronti alle avvenienze Dov'è? Vai a cercare il telecomando No ma ancora per noi Ma adesso ti voglio eh Si Si Coglione Perché va la nel microonde di telecomando? Lo so Si ma un po' di volume mettilo coglione del cazzo Si vede niente Non si vede niente Si vede Si vede Si vede Si vede Ma non si sente niente Ma non vedono la barra del volume No che non la vedono la barra del volume Perché non registra la tv E no perché registra la tv E' vero linea diretta Aspetta Ma che aspe... Aspetta S4Pussies proprio Aspettare E' vero che c'è la barra Guarda guarda che bronze Là In realtà Così è più grosso anche per noi lo schermo comunque Minchia Che è fuga Ha già il pene Il pene Il pene Adalvis usa il pene in pandemonso Adalvis usa pene Uuuu E' vero che a volte mi sembra quasi che dovessi Tipo andare giù su invece non sarà un cazzo Giù su Devi solo andare gli albani Ma quando è che aumentiamo le nostre vite? Mai Quando magari smetti di prendere una moneta alla volta Cioè Smetti di prendere una moneta alla volta Olè doveva morire una volta È vero è vero Qua non è ovvio Mi l'ho dimenticato Torni indietro Hai prendi la vita magari C'era la vita Ho vista No vabbè muore nel ventre Uuuu Ma uuuu Perché sai com'è che il video è Ecco salta Eccolo E' strana l'inquadra Sì perché non si capisce un cazzo Ma il vomito fa sfida E' scivolo Schifo Schifo sicuramente però E' scivolino Allora occhio Ok Ok Vai adesso C'era un metro dopo C'era un metro dopo Perché ti devi far prendere No Abbassavo Uuuu Uuuu Che era al pelo proprio Vabbè non è che qua Se arrivi al checkpoint hai fatto il tuo lavoro Ma non è già fatta Era già alla metà eh No ma c'è un checkpoint dopo Delivero anche se vuoi No non deliveri perché c'è un pezzo difficile dopo Delivero anche Io lo so E' in moto proprio Ha paura Questo? Questo? Ha qualche calo di frame l'emulatore d'arplay 3 eh Eh guarda Tu che sei un giocatore di picchiaduro lo riconosci Infatti Perché lo schiacciare Ah è il picchiaduro Peraltro un saluto per simpatizzare l'incidente che è capitato in un gioco Ah beh no E tocca a lui Ma chi l'ha detto da quando? Ma cos'è una regola? Ma no quello analogico non va No 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 Ma fa tanto bene il d-pad del Ma perché sei un coglione Guarda che tutti proprio Guarda che tutti proprio Guarda non ci arrivi neanche un metro E' sbagliata sta cosa Perché uno si è abituato con un personaggio Con un personaggio No vabbè con la rana tu adesso non hai idea stai andando avanti sereno a morire Ecco Va direi Sì ma adesso abbiamo zero vite Ti prego reee Ma si ma tu vuoi niente Eh No vabbè ma siete ridicoli Aspetta un secondo No ma siete Ma non si è fatto a forza perché c'è la zero Ma siete ridicoli Password Password Accept Neacebba Neacebba Che stavamo rendendo conto che non ha senso fare il completamento alto Diteglielo Perché poi Diteglielo che invece ha senso No Perché in realtà cominci con Serve prendere sia i soldi che i tesori Si ma non salva il gioco Non salva perché c'è una password Quindi io ricomincio con la password No No esci non ha senso No vabbè veramente Sì non ha senso Sì non ha senso Sì non ha senso Dai va bene Vai quitte Ma solo perché siamo così in allegria Ma non siamo in allegria Ma non siamo in allegria Aveva bisogno è allegro No perché adesso ho l'ansia di finire i giochi anch'io come Locke Di colpo Di colpo come Locke Alla fine tutti diventano come Locke Vedi diventa un pezzo di merda Ad Alvis gli viene l'ansia di finire i giochi E' vero E come al solito Locke ha ragione Esatto Senza Io rappresento la ragione La vostra ipocrisia Tutto ciò che nascondete Dignilo Adesso non voglio prenderlo Non voglio prenderlo No aspetta che vedi Io mi sto già adattando la vostra incapacità Ah no ma ne ho perso il potere No no hai neanche perso un cuore coglione del cazzo Appunto ho perso il potere di conseguenza Esatto Ma che pari Ma non devi andargli sopra L'ho fatto apposta E' bravo E' zitto Per favore E' se te lo finisco E' se finisci il livello Il livello lo finisco di sicuro Di sicuro Una volta di quittare Abbiamo quittato di più che Fare i livelli Quittiamo Pandemon No vabbè oh dai Se vorrei finire Il primo giro è andato Flawless E' andato Flawless Poi mi adatto al vostro Perché io mi adatto al vostro gameplay Appena vedo voi giocare di merda Gioco anche di merda Poverito Uno Vedi Guarda che incredibile Voi non ci credete ragazzi a casa Oh hai capito Che non devi andargli dentro E forse perché E ma sei un coglione dai Fai giocare qualcun altro No Fai giocare qualcun altro Di noi tre Non è chi c'è ancora Per quello possiamo giocare il gatto Ma perché quitti Vai con una vita Perché Ma ne abbiamo due poi Non è che No E ne abbiamo una in più così Ma si ma se hanno uscito un pezzo Va bene No dobbiamo arrivare lì Flawless Vai ci vedo dei video così Free Dai che dopo vi raccontiamo delle cose di Ray Eh Ray ero così Non devi raccontare No non lo so No perché non so mica com'è Loc Che lui è Oggi tagliato Preso Oggi si è tagliato Sì 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 Vai con calma Alla fine ogni volta Non l'abbiamo ancora capito in anni di gameplay Cioè devi solo andare con calma Vero Basta andare con calma Easy E Loc Delivera Loc Delivera Però se ci metti 45.000 a fare un livello E' meglio che morire in continuazione E' meglio morire in continuazione o metterci 40 minuti? Sondaggio E' meglio morire in continuazione o metterci 3 ore un livello passo a passo? Eh Eh Adesso eh Rispondete? Tutti eh Oh vedo tipo 500 viste e 500 risposte dovrebbe Oh 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 Ma la vera è una merda Ma la vera è una merda è un debuff praticamente E' uguale Salta altissimo Ma non spavi non hai il doppio salto Ma chi se ne fote Il doppio salto è compensato dal salto in alto Ma salta sto cazzo Forse il livello è adattato per essere rara tra l'altro Quindi è uguale in realtà Grillo Adalbis Tu che sei un Tu sei un game designer Tu sei un level designer E questo non è un timer designer lui invece Sotto Non dovete fare queste cazzate Saltate sotto Aspetta Saltate sozzo Prima ammazza Aspetta aspetta Non guardi neanche il tetto e dici Voglio andare free E poi salta subito Non guarda neanche Voglio andare free Free Stai andare tranquilli Oh Occhio che scivolino 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 E' un ritardo Flawless ovviamente Ma si che cazzo te ne frega Oh 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 Aspetta E' un po' come Giubi Oh Un giorno creeranno un gioco dei super fighting bros Questo invece ci sarà Giubi Scivolino Scivolino Tutte le nostre cose Pelucco 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 di fuoco No pelucco di true Original one E' adesso checkpoint da E andiamo avanti nel gioco Ah già c'erano le We 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 Ne ricordate We 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 Salta Giù Salta Giubi Salta e giù E' sempre Sempre Bravo Sempre giù No salta e giù Lui ha fatto giù salta Io darei mano all'occhio Poi fate voi E' non so vero che In quel momento si è preso nel gioco Secondo me noi sbagliamo a cambiare Ehi ma sei un coglione No 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 Dai cosi Sai cos'è? Facciamo un livello a testa Cambiamo le regole No 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 Cambiamo le regole Ma mi spiego una cosa Noi sbagliamo come stiamo giocando Perchè Non ci abituiamo al gioco Noi mai Perchè appena stai per abituarti Lo dai un altro Che inizia a metà livello Senza per un cazzo E' sbagliata Per quello che Ragazzi Ogni volta sto cazzo di salto Beh bravo lui E' tocca a me Intanto posso giocare anch'io ragazzo No ma no Il problema è che qua che muove Ma hai salato il giro qua No io non ho ancora giocato Veramente Lo hai giocato prima 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 E' un coglione 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 Acid Pulse Acid Pulse Acid Pulse Forse E' un coglione E' un coglione E' un coglione Ecco E' un coglione E' un coglione E' un coglione E' un coglione Nella solita cosa, la password o la password? No A me che non sono passi diverse Oh Dio santo Ma non fa il doppio salto su sto pad E' il pad che ho fatto il più salto E' il pad della play 3 Che sicuramente non dà l'input Invece è il tuo funcio della play 1 del cazzo Infatti Tipo incollato con lo scroto E beh intanto quello va Quello va Che è arrivato Nella prossima puntata Nella prossima puntata Vediamo se finiremo anche questo Commentate, scrivetemi, mettete mi piace Mettilo Che caro Non vi preoccupate Torniamo fra un secondo Fra un secondo